E' davvero una grande gioia per la nostra comunità di Borgetto poter accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime, le ultime lacrime che Maria Santissima ha versato a Siracusa, da quel famoso quadro che tutti noi abbiamo potuto conoscere, almeno chi è più avanti negli anni. Io personalmente non ho vissuto in quel tempo, ma certamente nel ricordo dei miei nonni, dei nostri familiari, siamo un po' tutti cresciuti guardando a questo piccolo quadretto che era il capezzale di una famiglia che ha lacrimato e ha consegnato alla Chiesa questo grande dono, le lacrime di Maria, lacrime umane che Maria Santissima ha pianto, proprio nella nostra terra di Sicilia. Resteranno qui fino a domenica? Sì, resteranno qui fino a domenica. Questa mattina in realtà sono già approdate all'ospedale in Grassia, dove sono cappellano, quindi abbiamo avuto la possibilità insieme a Monsignor Arcivescovo di girare i reparti dell'ospedale e di portare agli ammalati la benedizione di Maria, in un luogo molto particolare, qual è l'ospedale, dove tante lacrime vengono versate, sia lacrime di gioia per chi dà la luce dei bambini o scopre che magari la malattia è passata, si è guarita, oppure chi scopre la sofferenza, il dolore o le lacrime che approdano poi all'ultimo esilio, di quando questa anima benedetta parte verso la Patria Eterna. E qui a Borgetto rimarranno per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, con un programma ben articolato e inizieremo poi il giro dei luoghi della sofferenza. Andremo nelle case di riposo, nella RSA Omnia Service di Giovia e la CTA Cristo Pantocratore, che si trova nella strada per Romitello. Al pomeriggio alle 15 la coroncina della Divina Misericordia, alle 16 il missionario Don Raffaele Aprile, che è inviato dal santuario insieme ad altri due volontari, terrà un incontro con i bambini del Catechismo e alle ore 18 la Santa Messa seguirà una breve fiaccolata con le reliquie della Madonna delle Lacrime. E poi domenica, le messe alle 9, alle 11 e alle 18 e 30, Monsignor Arcivescovo concluderà con il solenne pontificale, dove saranno benedette le coppie che quest'anno convoleranno a nozze, si sposeranno qui nella nostra comunità di Borgetto e le famiglie della nostra comunità. E saluteremo il reliquiario che tornerà a Siracusa. In questi giorni ci troveremo in questa realtà parocchiale. Portare la presenza di Maria è sempre una gioia per noi missionari. La presenza di Maria cosa vuole significare? Attraverso le lacrime. Semplicemente il fatto che la nostra mamma celeste vuole dirci che è sempre con noi, soprattutto a chi è nel pianto, nella sofferenza, nel dolore. Far sentire proprio la sua presenza materna. Infatti il reliquario mi piace vederlo come lo scrigno che custodisce non solo le lacrime di Maria, ma anche quella dei figli, di tutti quei figli che depositano le loro lacrime o andando in santuario oppure quando noi andiamo in missione portiamo appunto il reliquario che custodisce l'unica reliqua fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica. Provengono dal santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Madonna delle Lacrime perché viene dato questo appellativo, questo nome? Perché Madonna delle Lacrime è l'appellativo con cui i fedeli appunto venero Maria in seguito a un evento verificatosi appunto nel 1953 e precisamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al primo settembre. Da un'effigie mariana in gesso smaltato a metà busto, montato su di un supporto di vetro palino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Quel quadretto era un regalo di nozze celebrato il 21 marzo di quell'anno ed era posto come capezzale di un letto matrimoniale, nella casa di una giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto. Il quadretto verso lacrime, risultate in seguito di tipo umano. La lacrimazione in quei giorni si ripetè almeno 58 volte, rendendo quindi casa Iannuso meta di incessante pellegrinaggio. Vedete le sue lacrime, cosa vogliono dirci? Ci esortano, è un invito diciamo pressante a riconciliarci con Dio, con gli altri e con noi stessi. Le sue lacrime ci esortano, così come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare al Padre, è un invito a ritornare a Dio, proprio come la parabola del Padre misericordioso. Per sperimentare che cosa? La tenerezza paterna e materna di Dio. che vince appunto il peccato con il perdono, il male con il bene e le ingiurie con l'amore. Quindi una mamma piange quando vede appunto i suoi figli divisi a motivi di litigi, di contesi, di conflitti che minano appunto la serenità della famiglia. Così anche Siracusa Maria piange quando vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Allora le sue lacrime sono un invito ad interprendere un cammino, un itinerario di pace per costruire scale, in grado appunto di costruire scale verso l'alto e ponti verso l'altro. Qual è l'altra particolarità di questo prodigio? Si distingue da tutti gli altri eventi eccezionali che hanno visto la Madonna come protagonista. perché se a Fatima, a Lourdes, alla Saletta, a Parigi, la Vergine ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento. A Siracusa, a migliaia di persone, affinché fosse confermato il tutto, si è sottoposta a fredde analisi scientifiche e da laboratorio, perché a differenza di tutte le altre visioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa resta comprovato dalla scienza. Il messaggio è quello di lasciarci riaprire il cuore, di lasciarci riconciliare al Padre, attraverso come? Anche il sacramento così importante della confessione. È un invito quindi ad intraprendere proprio un cammino di pace, proprio in questo momento storico ne abbiamo davvero di bisogno, quello di riuscire a costruire dei ponti, gli uni con gli altri, e di creare sani legami, sane relazioni.